Il via libera all'aumento di capitale da 2,5 miliardi è arrivato. Monte dei Paschi può quindi concentrarsi sulla fase di rilancio che nella prospettiva dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio permetterà all'Istituto di Credito di ritornare in perfetta forma. Chiudere l'operazione si è rivelato un esercizio più complicato del previsto perché fino a tarda sera la firma dell'accordo da parte delle otto banche che compongono il Consorzio di Garanzia non era presente sul tavolo del Consiglio di Amministrazione. Poi in sei si sono fatte avanti e alla fine le altre due hanno dato il loro benestare. L'impegno complessivo del Consorzio è per 807 milioni ma circa la metà sarà sottoscritta da altri soggetti che hanno accettato un vincolo formale. 50 milioni arrivano dal fondo Algebris di Davide Serra e 37 milioni da investitori terzi. I 900 milioni della componente privata sono stati così raggiunti. Il resto sarà in capo al Tesoro per 1,6 miliardi. L'aumento si aprirà il 17 ottobre e si concluderà il 3 novembre. Era il pilastro su cui si fondava il piano industriale e il rilancio della banca quindi la ricapitalizzazione che era necessaria necessaria anche ad accogliere il fondo Esuberi per i colleghi che potranno a questo punto andare in esodo e ripartire poi su un rilancio effettivo nel quale noi abbiamo sempre creduto e crediamo. Per Montepaschi si tratta della settima ricapitalizzazione negli ultimi 15 anni. Magari non sarà l'ultima ma l'auspicio è che si tratti di quella della svolta. Sicuramente c'è la consapevolezza che questo sarà l'ultimo aumento di capitale. Questa a mio avviso è l'ultima possibilità, l'ultima chiamata per questa banca per uscire dalla grossa crisi che ha attraversato.